Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Vettori e sono il regista dell'ensemble del Teatro Reggio di Torino. Devo dire che con grande emozione sono tornato in questo teatro, che per me è una sorta di casa, perché nel 98 sono entrato a far parte del Correvo Cibianchi del Teatro Reggio di Torino, allora diretto dal maestro Claudio Marino Moretti, e lì si è accesa la mia passione, il mio amore per il teatro e per la lirica. E quindi oggi ritrovarsi insieme ai miei compagni di ensemble a proporre ad un pubblico degli allestimenti nuovi è veramente una grande emozione. Un aneddoto, il mio primo incontro con il teatro è stato proprio al Teatro Reggio di Torino. nel vedere l'opera che veramente ho più amato in assoluto, che è il Don Giovanni di Mozart. Oltre al repertorio mozartiano, amo molto il repertorio barocco, e quindi spero di poter avere presto l'occasione di debuttare anche in questo repertorio, che a me piace tantissimo.